Circa 5.000 volontari delle oltre 40 organizzazioni che compongono la protezione civile lucana, operanti sui territori comunali della Regione. Un esercito civile, come lo definì Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della moderna protezione civile, che riuscì ad incidere profondamente sul sistema di coordinamento delle strutture operative e delle risorse possedute dallo Stato. A 30 anni dall'evento sismico che colpì duramente la Basilicata, un convegno ha ripercorso l'attività della prestigiosa organizzazione, mettendo in evidenza le criticità del nostro territorio e sottolineando l'importanza della prevenzione nei rischi ambientali. Una terra, la Basilicata, che presenta sempre alto rischio sismico, particolarmente la zona nord-ovest della Val d'Agri, e quello degli incendi lungo le due coste nel periodo estivo, dove è maggiore la concentrazione di persone. A monitorare costantemente il territorio è la struttura lucana, dislocata a vari livelli, la cui evoluzione si iscrive in quella nazionale. Il terremoto del 23 novembre ha sicuramente segnato un momento importante per quello che è la costruzione dell'attuale protezione civile nel nostro paese. È stato un esempio di ciò che non bisognava fare per tanti versi ed è stato proprio l'esempio dal quale si è ripartiti per creare questa attuale protezione civile, che nella sintesi è un insieme di strutture operative, di componenti, di persone, di cittadini e di amministrazioni, che svolgono ordinariamente il loro ruolo, secondo le loro responsabilità. Ma nel momento in cui c'è un'emergenza di carattere nazionale, proprio come potrebbe essere il terremoto del 23 novembre 80, se si ripetesse, sarebbero tutti insieme intorno a un tavolo a lavorare per gli stessi obiettivi, sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Il convegno è stato anche un importante momento di sintesi, in cui per la prima volta in Basilicata e a Potenza si sono riunite tutte le componenti del sistema di protezione civile, dall'esercito ai vigili del fuoco, alle forze di polizia, al corpo forestale dello Stato, alle forze dell'ordine regionale, provinciale e comunale, per giungere sine volontari. Il convegno è stato presieduto dal prefetto di Potenza, il dottor Luigi Riccio, dall'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Rosa Gentile, dal presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino, dal sindaco del capoluogo Vito Santarsiero e dai vertici della protezione civile della regione Basilicata, tutti insieme a testimoniare il valore della struttura, sempre pronta ad affrontare l'emergenza, il soccorso e il ripristino della normalità.